Radio Radicale, siamo col senatore Nicita del Partito Democratico per parlare con lui dell'annunciato decreto sicurezza che a quanto pare è stato anche spacchettato perché si voleva fare un decreto omnibus dove si mettevano le norme sulle baby gang, le norme sul femminicidio, un po' come era stato fatto con lo stesso criterio del decreto Rave che all'esame della Camera dei Deputati. Allora qui ancora prima di sfornare il provvedimento dal Consiglio dei Ministri si parla già di incostituzionalità del provvedimento. Allora che cosa sappiamo e che intenzioni ha il Governo su questo settore? Ma allora intanto quello che sappiamo di certo è che c'è una nuova riflessione da parte del Governo e poi diciamo sostanzialmente mi pare di capire più sulla spinta del duo Salvini-Piantedosi, di una nuova ridefinizione di decreto di sicurezza. Siamo passati dalla memoria dei porti chiusi che poi è stata smontata pezzo per pezzo diciamo anche dalla Cassazione italiana alla idea che è durata in un solo decreto dei porti socchiusi di Piantedosi perché erano l'idea dello sbarco selettivo che poi diciamo i medici delle ASPA hanno dimostrato non potersi applicare e adesso abbiamo un terzo decreto. Quindi questo già ci dà l'idea della sistematicità dell'attacco di decreti di sicurezza che non riguardano tutte le questioni dei migranti ma colpiscono quella quota del 10-12% di migranti soccorsi mari delle ONG. Quindi diciamo è un meccanismo mirato, ostinato, questo è un fatto che ormai possiamo dire perché il fatto che ogni volta si cambia un decreto ma che il soggetto che venga colpito siano sempre le ONG ci dà l'idea di una ostinazione, un'ostinazione che non è rivolta al fenomeno della migrazione perché quando tu vai a colpire selettivamente soltanto chi soccorre il 10-12% non risolvi comunque sia la tua idea un problema ma selettivamente colpisci con ostinazione le ONG che sono considerate il target politico di Salvini e purtroppo anche del ministro Appiantedosi che diventa proprio il portavoce di questa strategia. Adesso cos'è successo? Loro già stanno realizzando un cambio di strategia che è il seguente visto che si sono resi conto anche per le polemiche che ci sono state in Europa e anche per l'action plan europeo che ha stabilito i criteri chiari che poi stanno nella Love the Sea delle Nazioni Unite, cioè il soccorso in mare, il fatto che chiunque si trovi in una condizione, qualunque natante che si trovi in una condizione di pericolo debba essere soccorso, quindi che sia un affraggio, che sia un trasbordo, questo rientra nell'articolo 19 della Love the Sea. In tutti gli altri trattati internazionali e linee guida che ci sono si stabilisce che il posto sicuro non può essere considerata una nave indipendentemente dalla bandiera che batte, ci vuole un posto sicuro più vicino che diventa poi il porto sicuro dove deve arrivare la nave. Quindi già adesso quello che si sta verificando, se ci avete fatto caso, è che vengono assegnati alle ONG, quindi non a tutti, non alle, diciamo così, alle altre navi che sbarcano a Lampedusa, fino a stamattina, fino a ieri, 300-400 migranti, ma solo per l'ONG si stabiliscono dei porti che sono sempre più lontani, Salerno, Taranto, Ravenna, Livorno. Cioè, questo è un meccanismo che a mio avviso è già una violazione, non solo di un principio di discriminazione, ma una violazione del concetto di posto più sicuro, perché nella definizione che c'è nell'articolo 19 della Love the Sea si fa riferimento e nelle linee guida successive si fa riferimento all'idea che devono essere portate le persone soccorse a mare il più velocemente possibile nel posto più sicuro. Ora, il fatto che già oggi, quando ci sono delle navi che chiedono il porto, che sono nella parte meridionale dell'Italia, e che quindi possono agevolmente raggiungere un posto sicuro più vicino, si propongono dei posti più lontani, quindi mettendo e disponendo a rischio. Perché lo si fa? Lo si fa intanto per fare un dispetto alle ONG, ma soprattutto per tenere il più tempo possibile occupate, non poter tornare indietro a fare altri salvataggi. Ho capito, meno viaggi fai, meno immigrati porti. Allora, se questa cosa fosse, come dire, accompagnata da un incremento della presenza di altre navi, di altri soccorritori istituzionali, magari decisi anche con altri paesi, non ci sarebbe il rischio che questo tipo di misura possa esporre persone al rischio della propria vita. Siccome questo non c'è, è una scommessa sul fatto che, diciamo, meno stai in mare, meno migranti, come dire, farai sbarcare. E questo principio, peraltro, è uno dei principi che abbiamo letto sui giornali, essere alla base di questi nuovi decreti di sicurezza, che sostanzialmente imporrebbero dei nuovi codici di condotta alle ONG. Ma il problema è che questi codici di condotta non possono essere di nuovo in violazione di trattati internazionali. Qui si pongono due questioni. La prima, sembrerebbe che si dica a quest'ONG che si può fare un salvataggio per volta. Ora, cosa significa un salvataggio per volta? Significa sostanzialmente che una volta che tu comunichi di aver salvato qualcuno, devi subito andare nel posto più sicuro. Questo posto più sicuro, come dire, laddove si stabilisse che fosse il posto più sicuro dentro un raggio ragionevole, si può ragionare su questo. Ma se invece si stabilisce che il posto più sicuro è Ravenna o Livorno, evidentemente di quello che si vuole fare esattamente quello che abbiamo detto prima, cioè impedire di fare più soccorsi. Ora, questa questione dei più soccorsi, oggettivamente, non ha nessuna giustificazione, perché nel momento in cui la ONG o qualunque altro soggetto che si trovi in mare viene a conoscenza di un rischio e di un pericolo per gli altri, ha il dovere, l'obbligo, secondo la OVDC, di recarsi a fare il soccorso. Quindi questo codice di condotta, se fosse quello che è stato anticipato alla stampa, impedirebbe a soggetti che ne hanno conoscenza e possibilità di intervenire, di farlo, perché violerebbero un codice di condotta. E a fronte di questo codice di condotta, che è la seconda novità, si applicherebbero delle sanzioni di tipo amministrativo, che possono portare anche al sequestro dell'imbarcazione, di nuovo per impedire all'imbarcazione che possa ritornare in mare, magari affidandola ai prefetti. Quindi c'è una costruzione della quale innanzitutto non si capisce la logica, perché la logica, a meno che non la spieghiamo con l'ostinazione politica della propaganda anti-ONG, non ha una logica, perché non è legata al concetto dell'accoglienza, dell'assistenza in mare, perché poi le persone vengono accolte, semplicemente si fa una sorta di ricatto. Se vuoi che ti do un porto, devi salvare meno persone. Questa, oltre ad non avere nessuna giustificazione o ammissibilità sotto il profilo etico, non è neanche dal punto di vista del diritto internazionale. Riusciranno a essere compatti su questo, a presentare, diciamo a mettersi d'accordo sia all'interno del governo, dove ci sono idee diverse, l'abbiamo visto in campagna elettorale, non riuscivano a mettersi d'accordo sul blocco navale, che forse non faranno... Ma guardi, io sono molto meravigliato perché la Presidente del Consiglio, pure con le sue idee, con le sue parole che noi abbiamo trovato sbagliate, ma più volte dove ha potuto occuparsi del problema, per esempio nelle sue dichiarazioni programmatiche, ha posto sempre il tema a monte, ragionando di Africa, ragionando di investimenti, rispiegando che il blocco navale in realtà faceva riferimento al progetto SOFIA e così via. Cioè ha posto un tema diverso, più intelligente e, a mio avviso, molto più compatibile e probabilmente anche destinato ad un possibile successo in una strategia europea di dialogo. Insistere invece sotto il profilo di codici di condotta che evidentemente gli altri paesi europei, la Commissione europea, non approveranno perché contraddicono l'action plan della Commissione europea, che per la prima volta ha fatto, quindi diciamo adesso la Commissione europea sta andando un po' più avanti, evidentemente espone comunque il nostro paese di nuovo a polemiche. Naturalmente dentro questa maggioranza c'è questa ideologia condivisa di contrarietà all'ONG, sono state definite come, diciamo, dei centri sociali sul mare, cioè dichiarazioni dalle quali, a differenza di quello che viene in altri paesi, pensiamo per esempio alla Germania, che sostiene l'ONG, si comprende proprio come ci sia un pregiudizio politico ormai chiaro, proprio una vera e propria, come dicevo prima, ostinazione. Quindi non penso che dentro al governo ci siano simpatie nei confronti di chi salva vite, ma si rendono conto che questa ostinazione, a mio avviso, non le porterà lontano perché di nuovo è in violazione da quello che si legge dei trattati internazionali, quindi non reggeranno nei nostri tribunali. Senta, il fatto che abbiano provato a mettere in questo decreto sicurezza anche una serie di norme sul femminicidio, sulle baby gang, che sono fenomeni giustamente da contrastare, che poi ci abbiano ripensato, significa che in qualche modo si stiano dando una regolata? Beh, sì, anche perché questo tradiva un principio su cui loro sono sempre un po' stati, diciamo, relativamente ambigui, cioè loro confondono e tendono ad accreditare l'attività di chi soccorre vite in mare, compresi le attività di trasbordo, con l'attività degli scafisti, che sono ovviamente dei concetti diversi. Peraltro su questo hanno anche perso diverse volte in tribunale, e sostengono questa tesi che non ha nessun fondamento statistico, diciamo oltre che, come dire, della regionebolezza, del famoso pool factor, cioè loro sostengono che l'esistenza degli ONG sia un fattore determinante perché le persone affrontino il mare. Ci sono state anche delle polemiche legate ad un presunto report e così via, ma il punto qui è statistico, un fattore determinante, se esistesse, cioè se fosse la presenza fisica, diciamo, delle ONG a determinare questi flussi, intanto dovrebbero statisticamente spiegare il 100% del fenomeno, ma visto che ne coprono soltanto il 10%, evidentemente c'è il 90% del fenomeno che esiste comunque a prescindere, già questo smonta l'elemento, come dire, statistico. In secondo luogo, la definizione di pool factor in tutta la letteratura che si occupa di immigrazione di questi temi fa riferimento alle condizioni di partenza, alle condizioni di arrivo, cioè a ciò che muove intimamente le persone a muoversi, non al mezzo che utilizzano per farlo. È come se noi pensassimo che il fenomeno o dei fenomeni sanitari per cui le persone si rivolgono ai nostri ospedali fossero influenzati dal numero di ambulanze. che li portano lì. Quindi, diciamo, è proprio un'attività culturale sbagliata, peraltro è rimasta totalmente isolata anche in Europa. Quindi se questo governo vuole fare un salto, anche culturale, oltre che politico, da questo punto di vista, deve abbandonare questa guerra che è destinata a perdere prima o poi nelle aule dei tribunali. Chiarissimo. Allora, grazie, ringrazio il senatore Nicita del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato del decreto sicurezza e di tutte le polemiche che si sta portando dietro tra Action Plan e Pull Factor. Grazie. A voi.